Scusatemi, riniziamo sotto d'accavo. Ok, benvenuti a tutti, salve amici, benvenuti a questa lezione di Vocal Vibration, la nostra terza lezione. Io sono Yoga Charini Sanghita, Laura Biagi e vi sto parlando da Siena. Ma in questa lezione oggi vorrei praticare con voi l'ascolto e vorrei anche parlare con voi del potere che il mantra ha di farci esplorare noi stessi, di farci ascoltare, di farci vedere con occhi e orecchie nuove e di permetterci di calmarci. Manas Tra, strumento della mente, strumento della mente. I mantra sono degli strumenti antichissimi che vengono dalla cultura vedica, che risale a molti millenni fa e che è stata tramandata infatti la cultura inizialmente a livello orale, poi a livello scritto, per cui adesso noi possiamo studiare i veda addirittura in traduzione, ma inizialmente i mantra, cioè queste formule recitate, sacre, con un valore anche acustico potentissimo perché i mantra sono recitati in sanscrito che è una lingua veramente magica, che ha un potere di risonanza molto molto forte. Questi mantra sono stati tramandati per millenni oralmente e per esempio anche scritture come Sacre, come Yoga Sutra di Patanjali, codificati da Patanjali, un rishi della tradizione hindu, sono stati inizialmente tramandati oralmente in alcune scuole oggi, per esempio nelle scuole di che si cacciare, ci sono queste tradizioni ancora di imparare i sutra oralmente, con poi un aiuto a livello grafico di libri. La cosa più importante quando noi vogliamo memorizzare un mantra è innanzitutto sentirlo, gustarlo, quindi è un processo mentale, ma è anche un processo vibrazionale, fisico, esperienziale. E quindi non è solo un processo intellettuale, ma proprio esperienziale. Facciamo esperienza di mantra. Uno dei mantra che noi ripetiamo tutti i giorni, senza magari neanche rendercene conto, è il Soham mantra. Questo Soham mantra è un mantra molto antico, è antico quanto la vita stessa, perché è il mantra del nostro respiro. Per cui noi lo ripetiamo 26.000 volte al giorno. Dobbiamo dire che i Rishi e anche tutte le persone sante in tutte le tradizioni del mondo, spirituali del mondo, sono veramente da una parte molto generosi e dall'altra hanno un grandissimo senso dell'umorismo. Perché? Perché questo mantra noi lo ripetiamo senza doverci pensare. E quindi è un mantra di protezione, è un mantra di meditazione e contemplazione per il quale non dobbiamo fare sforzo. E quindi abbiamo una benedizione intrinseca nell'essere umano, che è questo Soham mantra. Soham, aham, io sono. So, sa, tutto ciò che esiste, io sono la divinità. La divinità è me. Soham, aham, sa. E questo mantra appunto è quello che vorrei praticare oggi. Come lo pratichiamo questo mantra? Prima di tutto, come ho detto già, lo pratichiamo senza rendercene conto. Ma è ancora migliore se riusciamo a praticarlo con consapevolezza, chiaramente. E qui entra la nostra, diciamo, cura verso l'ascolto. Anche l'ascolto è autonomico, automatico, no? Noi ascoltiamo. In realtà potremmo fare una distinzione tra sentire ed ascoltare, come c'è in inglese fra hearing and listening. Nell'ascolto c'è un'intenzione. C'è anche una capacità di trattenersi dall'esprimere se stessi in modo che l'ascolto possa davvero essere genuino. Perché molto spesso quando noi sentiamo quello che ci dicono gli altri e non ascoltiamo, li interrompiamo per esprimere noi stessi. Tutti noi abbiamo bisogno di essere ascoltati. Infatti essere ascoltati è un concetto, è un concetto, è un'esperienza veramente fondamentale per il nostro benessere. Ci sono molti problemi nel mondo proprio perché le persone non vengono ascoltate veramente. E quindi questo è anche una pratica importante per un cambiamento sociale, no? dove impariamo ad ascoltare noi stessi in modo da poter ascoltare gli altri. È molto importante, non semplice, perché l'ascolto, che noi comprendiamo come sentire, è automatico e quindi molto spesso non c'è un'educazione all'ascolto. In realtà, no? Se ci pensiamo, dovremmo forse inserire la docazione all'ascolto, ma un ascolto vero, non imposto. Per esempio, nelle scuole elementari sarebbe un'ottima idea. Comunque, insomma, l'ascolto è un'esperienza enorme e vastissima perché ascoltare tutti i suoni che sono dentro di noi e fuori di noi richiede molta rilassatezza. È molto difficile ascoltare senza reagire. Il nostro cervello animale vuole reagire per proteggerci. Quindi, se io sento un suono, sia che sia un suono piacevole, che io considero piacevole, sia un suono che mi spaventa, il cervello animale immediatamente reagisce. E anche se non sembra che io reagisca all'esterno, c'è una reazione dentro di me, la sento, questa reazione all'ascolto. Lo yoga ci insegna, tramite queste pratiche di ascolto e di contemplazione del respiro, ci insegna a reagire meno, sempre meno, sempre meno, sempre meno, fino ad abbandonare la paura. Questa paura è intrinseca, insita nel nostro essere animale, nel nostro corpo animale. Quindi non c'è da vergognarsi o da scacciarla o da sconfiggerla. Non è una battaglia, non è una guerra con noi stessi. La paura è importante da un certo punto di vista, no? Perché ci protegge. Bisogna capirla. Non bisogna capire le reazioni, bisogna capire se stessi e poi cercare di migliorarsi. Ecco, questo è il percorso, insomma. E allora detto questo, questo soha mantra, mantra come dicevo molto antico, perché è così antico quanto la nostra capacità di osservarci dall'esterno, che ci contraddistingue dagli animali. Non sono le emozioni o certe caratteristiche tipo l'essere fedeli o l'essere gioiosi, perché molti animali sono fedeli e gioiosi, più degli esseri umani. Quindi dobbiamo imparare molto dagli animali, veramente. Ma è la capacità di osservare noi stessi dal di fuori e cambiare le nostre abitudini. Questo è veramente un dono della nostra corteccia cerebrale frontale. Quindi il soha mantra è molto semplice in apparenza, ma per quanto è semplice è profondo. Quindi usando le pratiche che abbiamo già condiviso, della respirazione, come avevamo fatto le scorse volte, nella parte bassa dei polmoni e anche a 360 gradi, invece di avere una respirazione solo della sezione media alta dei polmoni, e solo anteriore, cerchiamo di riportarci a un respiro un po' più profondo, quindi faremo nove respirazioni di sei conti, inspiro, espiro, nove volte, cercando di portare, cercando di avere la sensazione del diaframma che si abbassa, quindi tira dentro l'aria per un discorso di pressione. C'è meno pressione dentro al nostro corpo, quindi l'aria entra. Non dobbiamo fare grandi sforzi per inspirare con un corpo in salute, diciamo, relativa. Dobbiamo semplicemente rilassare e aprirci a 360 gradi e poi espiriamo. Dopo che abbiamo fatto questa pratica per nove volte, possiamo iniziare a sentire il suono SA mentre inspiro e HAM quando espiro. Ora io posso inspirare ed espirare con il naso, non devo fare il suono, non è necessario per niente, infatti è il suono del respiro che entra e che esce. Quindi posso tenere un respiro regolare, magari leggermente un po' sonoro, ma non c'è bisogno di recitare il mantra SOHAM. È il mantra, è il dono, è un dono che già noi abbiamo semplicemente, grazie all'aria che passa attraverso le corde vocali. Quello che dobbiamo fare in realtà è rilassarci il più possibile e ascoltare. E ascoltare. D'accordo? Quindi proviamo a farlo. Quindi ci mettiamo in una posizione retta dove stiamo, non possiamo respirare bene. Iniziamo con il respiro. Espiro per iniziare. Inspiro. Due, tre, quattro, cinque, sei. Ispiro. Due, tre, quattro, cinque, sei. Inspiro. E lascio. Inspiro. E lascio. Inspiro. 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 In. Out. 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 Inspiro sa. Inspiro hum. Inspiro sa. Hum. Sa. Hum. Sa. Hum. Hum. Sa. Hum. Rilasso, ascolto il respiro e osservo me stessa e me stesso, osservo cosa succede. Osservo come mi sento. Molto bene, potete adesso riaprire gli occhi, tornare qui. E vorrei concludere questa lezione di oggi con una riflessione su perché questo mantra è così potente, così semplice, così bello, così vero e così utile. E il Soha mantra ci fa contemplare la realtà a livello vibrazionale che siamo dello stessa materia, siamo fatti della stessa materia delle stelle. Come diceva la grandissima Margherita Hack, fiorentina astrofisica. Come dicevano i Rishi dell'India, del Sanatandarma, millenni di anni fa. Quello che io inspiro e quello che io condivido tramite l'ispirazione è lo stesso. Questo condensarsi, concentrarsi della dualità in un'unità è una realizzazione importantissima per il nostro benessere fisico, emozionale e mentale. E' chiaramente spirituale. La maggior parte delle nostre paure, la maggior parte delle nostre agitazioni, rancori, gelosie, frustrazioni viene proprio dalla dualità. Dal sentimento di separazione che c'è tra noi, gli altri, tra noi e l'ambiente, tra noi e la materia, tra noi e i soldi, tra noi e la politica, eccetera, eccetera. Chiaramente la dualità è il risultato, o il dualismo è il risultato del duality inglese. Il dualismo è il risultato dei nostri sensi. I nostri sensi percepiscono tutto ciò che è al di fuori della mia pelle e del mio corpo come diverso da me. Quindi un suono è diverso da me. Con la lampada è laggiù, io sono qua, eccetera, no? Tocco una cosa che non è dentro di me, non la tocco fuori di me. Quindi tutti i sensi ci danno questa percezione di una separazione. Ma in realtà, quando poi ci dimentichiamo che siamo parte di un tutto, siamo connessi, e per fortuna, per fortuna la scienza ci sta supportando, sta supportando queste filosofie antichissime di tutte le tradizioni spirituali di tutto il mondo, finalmente anche la scienza è riuscita a raggiungere questo traguardo, di modo che anche per i più scettici o analitici di noi c'è la possibilità proprio di credere. La cosa fondamentale dello yoga è che è una tradizione spirituale che si basa sull'esperienza, non sulla credenza. Questo è fondamentale, cioè noi dobbiamo avere l'esperienza dell'unità, non la credenza. La credenza ci aiuta, il credere, il credo ci aiuta a non avere disciplina, ad avere coraggio, a non mollare nelle pratiche, eccetera, ma in realtà è un'esperienza. E il mantra Soham è un mantra semplice che ci può far avere questa esperienza. Allora finisco con un esempio pratico. Per esempio, mi alzo e non sono di buon umore, o sono stanca, o non mi sento bene, e decido di andare in ufficio o di andare a fare la spesa, o qualsiasi cosa che debba fare, ok? E mi succede che sono nel traffico, o mi succede che una persona mi fa arrabbiare, o mi succede che tutte queste esperienze sono tutte esperienze di separazione dalla realtà che è di fuori di me. Molto spesso c'è una separazione dentro di me. Voglio fare una cosa, ma ne dico un'altra. Penso una cosa, ma ne faccio un'altra. Quindi in realtà questo processo di separazione è già in me, e poi lo proietto fuori, verso gli altri. Come faccio per richiapparmi, no? Come faccio per non rovinare tutta la giornata, solo perché mi sono svegliata male? Respiro, respiro e cerco di ricordarmi che tramite questo mantra posso guadagnare piacere. Posso guadagnare del piacere di vivere. Il piacere di vivere è fondamentale. Quindi il piacere di prendere un bel respiro in tutti i polmoni, e quando espiro lasciare proprio andare, e in più aggiungere il mantra per ricordarmi a livello mentale che sono connessa, che sono connessa a me, che apprezzo questo corpo, che apprezzo ciò che ho intorno a me, che mi permette di praticare, che apprezzo la natura, che apprezzo gli elementi, e che apprezzo filosofie che mi permettono di contemplare la bellezza della vita, anche quando è difficile. Quindi vi ringrazio tantissimo. Se avete delle domande o dei commenti, vi prego di farli. E anche se di farmi delle domande poi dopo sui commenti di questo video, in modo che se io non sono chiara, non mi spiego bene, oppure volete degli approfondimenti, possiamo continuare. Quindi respirazione, per ora abbiamo lavorato sulla respirazione, poi sulla pronuncia e l'emissione della vocale A, questo abbiamo fatto le scorse due volte. Oggi iniziamo a parlare del respiro e di suoni che già sono dentro di noi, che sono sacri. Sempre in riferimento al fatto che l'etimologia di respiro e di spirito sono simili in italiano, perché vengono dal latino, spirito, che si riferisce a tutte e due. E anche in sanscrito, Brahman vuol dire sia l'universo che il respiro. Bello, no? E quindi così. Va bene. Grazie tantissimi. Un bacio tanto, tanto, tanto grande. Buon fine settimana. E tanto amore a tutti. E finiamo con un bel OM. Ispiro. Ispiro. OM Ciao. Ciao. Grazie.